Dalla pallavolo alla ginnastica, dall'equitazione al golf, saranno 25 in tutto le discipline sportive con altrettanti punti sport che domenica 24 settembre dalle 9 alle 19 invaderanno il Parco Pertini ad Arezzo per la decima edizione di Vivere lo Sport Arezzo Abilia, organizzato dal CONI e dalla WISP. L'obiettivo della manifestazione resta quello di offrire da un lato a tutti i cittadini l'occasione di praticare sport e dall'altro di favorire l'inclusione. Si è cercato di dare più valenza in quello che era il progetto iniziale di Vivere lo Sport è soltanto a quelle che sono le problematiche connesse con l'integrazione, anche perché sta crescendo nel territorio il fenomeno di valorizzare tutti quei processi, non solo nell'ambito dello sport ma nella convivenza anche civile della città, tutte le problematiche connesse con questo. C'è soddisfazione per questa decima edizione di Arezzo Abilia. È stata una crescita ininterrotta sia dal punto di vista della partecipazione ma anche dei cittadini stessi, ma anche delle associazioni e delle istituzioni che siamo riusciti ad aggregare in tutti questi dieci anni che aumentano sempre di numero perché sono interessati al tema che proponiamo di sport e di inclusione. E poi una crescita anche delle federazioni sportive, tant'è vero che ci dobbiamo organizzare per trovare uno spazio per tutti. Estra nella sua pratica di responsabilità sociale d'impresa ha scelto di essere vicino al mondo dello sport, al mondo della diversità, al mondo dell'inclusione, che è una parola, è un driver importante a livello europeo e quindi essendo questa manifestazione che in pratica esprime un'alleanza territoriale importante, le istituzioni sportive, le istituzioni politiche, le associazioni e il mondo dell'impresa, per noi era un'alleanza dalla quale non era possibile essere fuori. La nostra presenza per rimarcare ancora di più l'importanza dei prodotti del territorio, la valorizzazione delle nostre campagne, la valorizzazione dei nostri prodotti tipici perché una sana alimentazione unita a uno sport equilibrato sicuramente sono un sistema per prevenire numerose malattie e fare una corretta gestione dell'alimentazione e dell'attività fisica.